Nel comune di Sedriano, ubicato in prossimità dell'autostrada Milano-Torino e della tangenziale Ovest, vi è un complesso industriale che copre un'area di 8500 metri quadrati. Il complesso è costituito da una zona di carico-scarico, un magazzino con celle refrigerate, un corpo ufficio, una zona di spedizione e da una villa. Il comune di Sedriano, con una delibera della Commissione straordinaria, ha dichiarato l'area, ad oggi di proprietà della Buon Buono, appartenente all'ambito di ridefinizione funzionale, con conseguente introduzione di norme tecniche tesi a favorire un processo di riconversione urbanistica con destinazioni varie, lasciando comunque la possibilità di utilizzare le costruzioni edilizie preesistenti. Il complesso si trova inoltre in una posizione strategica, che permette di creare un'ottima rete logistica. Vista infatti circa 300 metri dalla stazione ferroviaria, 20 chilometri dal centro di Milano ed è inoltre raggiungibile attraverso l'autostrada dei trafori A4.